Ciao a tutti ragazzi, scusate per il pigiama, i capelli, vi volevo solo dire che dovremmo fare un altro video di trucchi che ho comprato ieri con i miei genitori che stiamo andando a Jumbo, sto usando la webcam di mia mamma e purtroppo non è che va molto bene di microfono e di video, non è che si vede molto bene dovete aspettare solo domani, domani farò il video dei trucchi che ho comprato quando sono andata a Jumbo, quindi genitori vi auguro una bellissima serata e ci rivediamo domani, ciao